In che stato si trova attualmente Varesello, il famoso centro sportivo del Varese Calcio, nato qualche anno fa sull'iniziativa personale dell'attuale consigliere di Forza Italia Galparoli? Noi siamo andati a vedere, per capire un attimo, visto che proprio l'anno scorso, in questo periodo, si erano trovati per un primo incontro delucidativo la società gestita dal presidente ammirante e l'amministrazione comunale, in testa proprio il sindaco Galimberti. Attualmente il centro sportivo è chiuso, è uno stato non di abbandono, ma comunque certamente necessario di grandi opere di ristrutturazione, cosa che dovrebbe partire tra poco tempo, visto che lo stesso sindaco Galimberti proprio ieri ci ha comunicato che nelle prime settimane del mese di aprile vi sarà un nuovo incontro per trovare l'accordo e firmare questa convenzione.